Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità e benvenuti a questa edizione speciale del nostro TG. È in strada la nuova linea di bus 91 Express, una circolare attiva dal lunedì al sabato che offre ai cittadini di Casalotti e di Boccea un collegamento veloce con la metro A a Battistini. Il capolimia è unico a via Mattia Battistini, le partenze sono dalle 5.30 alle 23.30 e le fermate si trovano a via di Casalotti, via di Boccea, via Bonifazi e appunto via Mattia Battistini. E per favorire lo scambio con la nuova linea 91 Express e con la 904 in direzioni delle stazioni metro di Battistini e di Cornelia è stato anche modificato il percorso della linea di bus 031. Le vetture in partenza dal capolinea di via Piedicavallo svoltano a destra su via di Boccea per raggiungere la fermata Boccea-Morsasco dove c'è lo scambio con i collegamenti 025, 027, 028 e 905. Successivamente alla fermata Boccea-Casalotti si ha la possibilità di prendere la 91 Express verso Battistini oppure la 904 in direzione di Cornelia. La linea 031 invece subito dopo si dirige verso il capolinea della Giustiniana e riprende il percorso abituale.